Manuel Anelli lascia Monte Silvano. A malincuore il giovane Grillino cede il passo al primo dei non eletti per motivi di lavoro. Si trasferisce a Padova dove proseguirà la sua carriera, tecnico o radiologo, una scelta che però non vede messa da parte la politica. Da noi vige la regola dell'onestà e di quella che è la continuità nei confronti della cittadinanza. Per questo noi siamo impegnati a essere presenti costantemente sul territorio, venendo a mancare del tempo per motivi professionali e lavorativi è giusto cedere il testimone per altri attivisti. È per questo che rimanendo fedelmente attivista e dentro di me continuerò a portare sempre i principi del Movimento 5 Stelle e cedo il passo col sorriso ma anche con tanta dispiacere per quello che abbiamo fatto e continueremo a fare. A prendere il suo posto sarà Cristian Di Carlo, il primo dei non eletti, perché Spieganelli non fa parte della filosofia dei grillini mantenere una poltrona senza poter seguire da vicino caso per caso. Intanto annuncia di aver già preso contatti con gli esponenti politici del Movimento di Padova. Perché sì, noi siamo così e a differenza degli altri non siamo attaccati alla poltrona. Tanto io, tanto il prossimo attivista che è Cristian Di Carlo, a cui faccio un grandissimo in bocca al lupo, gestiremo l'attività politica da dentro. Noi siamo sempre avvolti dallo spirito del Movimento 5 Stelle, quindi tanto qui, tanto su, continuerò a portare per quel poco che posso la mia forza, il mio voler rimanere nel Movimento anche ovunque andrò. Infine rimpianti, uno su tutti, quello di non aver ottenuto più fiducia dalla cittadinanza al momento delle votazioni. Non abbiamo grandi rimpianti, abbiamo grandi ambizioni, volevamo governarla questa città per cambiarla. Il grande rimpianto è vedere che la gente non è riuscita nel corso di questi anni, nel corso della nostra evoluzione politica, dal passaggio dallo zero al 4 al 20%, a darci ancora quel pizzico di fiducia per farla governare.